poi vediamo un po' mi manca radio tube ma io speriamo noi siamo fiduciosi io spero proprio di sì dovrebbe smuoversi qualcosa forse già domani speriamo veramente abbiamo il nostro procuratore che va a parlare con radio dj e ci mettono al posto di Guglielmo si chiamerà a tu per tizio io Tobi che non suona per niente bene come a tu per gu però hanno soltanto un numero limitato di tizio volevamo fare kiss kiss tizio io Tobi però suonava troppo male allora ci hanno spostato intanto vediamo un po' sono arrivato ora ci dice ok ok gliela linki tu o gliela linko io chi? no no non lui uno che ha scritto nei commenti ah ok adesso gliela linko va allora chi schisse tizio io Tobi sa tanto di Gaio giusto ci dice KKKKXXX KKKKXXX 1 2 3 ma non tra di noi cioè in realtà io Tobi e tizio che baciano oggi anzi a proposito se possiamo fare l'annuncio ding dong eh no ma oggi vuoi fare le foto all'incassa 2 ma non credo ci caghi nessuno lui voleva farmelo dire solo per poi fare il suono con la batteria esatto se no c'è anche questo ancora meglio grazie grazie